Ok, mio nome è Roger Longman, sono da Inghilandia, sono un agricoltore con 600 agricolti. Ok, il mio nome è Roger, sono un produttore di formaggio inglese e ho 600 capre. Abbiamo fatto 25 tipologie di formaggio di capra. Abbiamo fatto anche alcuni tipologi di capra e alcuni tipologi di capra. Produciamo 25 tipologie di formaggio di capra, ma anche formaggi provenienti da latte a vaccino e latte di pecora, che provengono da allevatori nelle vicinanze. Come siamo un nuovo produttore, non siamo costruiti da tradizionali inglesi, possiamo fare francesi, italiani e griechi. Siccome siamo dei produttori abbastanza nuovi, non seguiamo la tradizione specifica dell'Inghilterra, ma produciamo anche formaggi tipologia italiana o francese. Quindi abbiamo appreso le migliori tecniche da tre paesi e le abbiamo adattate ai nostri formaggi. Qualche volta funziona, qualche volta non funziona. Abbiamo alcuni migliori pezzi che vengono, facciamo un pezzi che si chiama Rachel, che vengono molti pezzi e è il nostro pezzi che vendiamo. Ok, il formaggio migliore che vendiamo si chiama Rachel ed è un formaggio caprino a pasta semidura. Produciamo anche un formaggio a latte vaccino che si chiama Mondiu ed è un formaggio giallo a latte vaccino. Il giallo è dato dal percentuale di grasso molto elevato. Abbiamo appena iniziato a fare un pezzi che si chiama pezzi e abbiamo anche un bello pecorino che speriamo di portare in Italia la prossima volta che veniamo. Facciamo anche dei formaggi a latte pecorino e produciamo anche Catrina, che è un formaggio che ci piacerebbe portare in Italia la prossima volta che verremo. Un altro formaggio che ci piacerebbe portare in Italia la prossima volta che verremo. Ci piace molto venire in Italia e venire a Cheese perché abbiamo l'opportunità di incontrare dei consumatori interessati e possiamo anche assaggiare formaggi da altri paesi. Grazie mille. Grazie mille.